Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. Ma soprattutto ricordo il modo in cui mi riflettevo in ogni specchio, in ogni vetro di una macchina. Proprio come se davvero fossi inquadrato da più cose. Magari era un problema di narcisismo, una roba sicuramente psichiatrica. Però come me questa cosa ha tanti ragazzi, ma è la bellezza dell'adolescenza in verità, che ti porta ad amare la vita in quel senso, che ti porta a viverla in maniera più intensa. E allora non mi viene difficile capire che tanti ragazzi che poi sono cresciuti e sono rimasti legati, si sono attaccati in maniera viscerale a questa canzone. Non è un film degli articolo 31, ma ho parlato di un target giovane, perché comunque gli articolo 31 sono uno dei primi gruppi rap che hanno avuto quel grande successo e sono stati diciamo tra i primi poi a fare anche un cambio di stile e ad avere una fanbase molto 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 giovane nel settore e canzoni come questa che comunque non erano solo di ribellione, perché magari era facile, era più facile arrivare ai tempi portando la rabbia, la ribellione, la figura di J-AX, comunque un grande ribelle, un grande personaggio, io ho tanta stima di J-AX, anche quando magari fa cose che non mi piacciono, non mi interessano, però ecco J-AX qualunque cosa fa davvero ci mette il cuore, quindi anche se non sei d'accordo con quello che dice o con quello che fa, comunque apprezzi il gesto, è uno che ci sei attaccato perché ti sei affezionato in momenti, la sua musica ti è stata vicina in certi istanti che comunque poi non dimentichi, no? E questa canzone per me, insomma ne volevo parlare, qui il testo, per vedere quante cose anche sono cambiate e anche un po' come si fa a ricordarci come si fa a scrivere un testo immortale però semplice, ecco, basta a volte magari ricordare qualcosa perché questa canzone parla con una consapevolezza, è un momento di grande lucidità dell'autore, dell'artista che un attimo si ferma e facendo un flashback del suo passato, per questo ho parlato di adolescenza, perché lui inizia con come pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità, quindi il ricordo diciamo già tu vedi questo ragazzo, ognuno di noi vede se stesso con questo zaino sulle spalle, pesante come pesava, no? Odiavo ogni professore, mi illudevo fosse una minaccia alla mia libertà, attenzione quel mi illudevo, perché sono frasi che ci sono passate addosso, forse non ci abbiamo neanche fatto troppa attenzione, perché il concetto è talmente forte che ti cattura subito, però mi illudevo, come se magari ecco il professore poi magari non lo è perché maturi e dici ma siamo sicuri che era proprio così, però magari qualche professore lo era davvero, quindi magari questo è un momento di consapevolezza in cui comunque si tende a vedere la realtà come più drammatica magari di quella che è, magari perché così è, perché la vita è un po' un film, se te la vivi in quel modo, ma ci sono dei momenti in cui non si riesce a trovare il senso, ecco, e in quei momenti che, riprendo il testo, ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età, e io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema, cioè io riconosco che non ero come quegli eroi che vedevo nella tv, che vedevo nel cinema, che vedevo in qualunque video, però mi sentivo come loro. Un'altra cosa fondamentale, io dico sempre che chi è diventato un campione lo era già prima, una persona che comunque poi riesce a trasformare il suo immaginario, diventare artista a certi livelli, farlo per tanti anni, è una persona che comunque se lo sente di avere quel qualcosa, non in più degli altri, magari qualcosa in più da raccontare, però quel sentimento di io sono diverso in qualche modo, mi differenzio dal tutto. Ma qui non è così, dice lui. Lui che tra l'altro, insomma, stava vivendo un bel successo, quindi comunque una vita come al cinema un po' ce l'aveva magari, no? Non c'è il lieto fine, poi il buono perde. E quindi allora non si parla un attimo di, solo di sensazione, qua si parla un attimo che la vita è quella che è, è una vita difficile, bastarda, ed è una vita che a un certo punto ti mette col culo per terra, anche se tu sei uno dei buoni, uno che ha lavorato tanto per il bene comune, anche del prossimo. Poi c'è questa barra molto importante, questa quartina, i tatuaggi fanno male anni dopo che li hai fatti, ma per quello che ricordano. Hai visto amici andarsene prima del tempo e sei sicuro che dall'alto ti proteggano? Perché ai tempi, io mi ricordo che in tanti, comunque, fare un tatuaggio, scomodarsi nel fare un tatuaggio, era per un motivo importante. E quindi ad esempio la morte di un amico, cioè non a caso ha fatto questa correlazione, la sua generazione, in tanti, si sono tatuati per gli amici morti, spesso magari per eroina o roba del genere, o incidenti. Mi ricordo ad esempio il fatto che se ti facevi una lacrima in faccia dovevi aver fatto almeno cinque anni di prigione, o avevi perso un amico, oppure avevi ammazzato qualcuno. Era questa la logica, se ti facevi un tatuaggio in faccia così da nulla, e non eri real, non eri un duro, qualcuno veniva a fartela pagare. Questo, anche nella mia piccola realtà. E per questo, no? È molto importante questa strofa, perché mi fa tornare indietro negli anni, mi ricorda quello che era il tatuaggio una volta, che oggi non è più, perché poi oggi, insomma, il tatuaggio è una forma d'arte estetica, anche no? Per carità. Però, insomma, prima era un'altra cosa. E intanto aspetti il colpo di scena, quell'occasione unica, che ti sistema ogni problema, è lei che ti completerà. L'occasione unica che ti completa, quella cosa che dici è andata. Oppure è lei, nel senso di una persona che a un certo punto ti salva, no? L'occasione unica che ti completa, è bello, proprio, come concetto. Ma qui non è così. La trama è inconsistente. L'amore non è mai per sempre. E vedete che allora lei, forse, non è solo l'occasione, no? Eh, l'amore non è mai per sempre. Io, insomma, mi interrogo sempre su questo. Siamo in un'epoca in cui... Cioè, lui l'ha detto che era il 95, 96, 2002. Quando era sto brano? Mi sa che era domani smetto, quindi 2002. Vabbè, comunque lui lo dice all'inizio degli anni 2000, in prossimità di quegli anni, e non era ancora l'epoca... Iniziava l'epoca dei divorzi. L'epoca in cui anche noi figli iniziavamo a crederci un po' di meno. Che forse l'amore era per sempre. Perché una volta era così, ti innamoravi, a un certo punto ti sposavi, facevi un figlio, e quando andavi all'altare era per sempre, nel bene e nel male. E siamo cresciuti con questa consapevolezza. Adesso invece siamo un po' perduti. Viviamo in un'epoca che va bene così, eh, per carità, non è che uno deve stare in un matrimonio infelice o sono a favore dei matrimoni della famiglia. Sto solo dicendo che oggi quando ti innamori, quando ti rapporti a un rapporto, qualunque esso sia, che però, insomma, è una relazione, ecco, io l'ho visto molto nella controparte della mia vita, come comunque sono tutte pronte a... lo taglio in mano, te lo vivi, consapevole che da un momento all'altro. E adesso la cosa è iniziata intaccare anche me. Quindi lo vivi consapevole che c'è una data di scadenza, ed è vero, però io non sto dicendo che le cose non finiscono, sto dicendo che per me amore vuol dire vivere ogni giorno come fosse per sempre, e poi a un certo punto smetterla di vivere così, di viverla così, certo, però è l'immensità di ogni giorno che fa il per sempre. Questo per me è l'amore, amare come se non finisse mai, come se io debba appunto preservare il nostro rapporto, invece oggi non è più facile. Quindi questa canzone racconta veramente un mondo che anticipava la tristezza del mondo di oggi. E lei diceva, non lo so, perché comunque ho il dubbio che la mia generazione muova una rivoluzione immaginaria. Doveva essere un tramonto e il bene in trionfo alla fine della storia. Cioè parla come se fosse finita, è finita, i buoni hanno perso. Prima il buono perde, qui i buoni hanno perso. E allora lei diceva, non lo so, e dopo mi stringeva forte ancora un po', davanti all'incertezza, no? E diceva di non prenderla così, nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che la vita non è un film. Quindi vabbè, magari c'è appunto il dolore di un tradimento subito, no? Che comunque ti fa vedere le cose così, però parte tutto. Questa è la vita. Ed è facile accettare la consapevolezza che nasce, cresce, poi finisce. Ma quando c'è il tradimento ti è chiaro tutto. Che quando comunque magari ti innamori, quando sei adolescente, quando vivi un attimo come fosse il successo, no? Ad esempio, ecco lì, magari, io dico sempre goditela in quel momento, perché poi la verità torna e ti ricorda che non c'è una telecamera che ti riprende. non c'è qualcosa che effettivamente sia realista se vista dalla prospettiva di un narcisista, magari. E via dicendo. La vita non è un film. La vita è la realtà. Ma io dico che la vera vita la vivono quelli che riescono a crederci davvero nei film che vivono. E qui mi viene in mente al bustilente, quando all'ultima scena a Harry gli dice Harry Potter, no, ovviamente, gli fa ma questo accade nella mia testa? E Albus si dice certo che accade nella tua testa. Questo vuol dire forse che non è vero. E questo è il discorso, ragazzi. Certe emozioni che viviamo sono vere, sono più reali della realtà stessa. Sono quelli. Sono quelle là la vera verità. e a quelle ci dobbiamo legare. E quelle dobbiamo sentire intensamente. Non in momenti, diciamo, in cui comunque la realtà sembra davvero così reale. Quando c'è lo sconforto. Che è vero che bisogna trovare un equilibrio. Però bisogna anche godersi l'intensità. Anche del male. Perché dal dolore è nata questa canzone. E oggi siamo qui a parlarne. E chissà quante migliaia di persone l'hanno ascoltata e l'ascolteranno. E riescono a fare del dolore un'opportunità di crescere, di nascere, crescere e poi finisce. Perché anche il dolore finisce. E questa è la bella notizia. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon. Da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro. 11 rate da 139 euro. E rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre.